Allora mister, uscite sconfitti contro il Salari Comp, uno spedaletti buono, soprattutto nel primo tempo, la tua è una squadra molto molto giovane. Sì, 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 è molto giovane per oggi, abbiamo disputato una buona gara, peccato, peccato, loro sono una buona squadra, tenzata, hanno fatto un bel gol e ci abbiamo provato fino alla fine. Forse l'esperienza è stata quella che ha fatto in più per il Serra. Sì, in effetti noi abbiamo un momento di crescita, dobbiamo capire in certe fasi della partita, loro hanno più esperienza, come hai detto tu, e hanno avuto la meglio. Poi nella seconda parte di gara c'è stata l'espulsione, forse siete stati poco incisivi con l'uomo in più? Sì, sì, volevamo aggirare, mettere palle dentro, ma non siamo riusciti a concretizzare il possesso palla che abbiamo avuto. Una sconfitta che ci può stare, riparti assolutamente dalla prestazione dei tuoi ragazzi? Sicuramente, come hai detto tu, e pensiamo già domenica prossima.